Ciao carissimi, oggi volevo parlarvi di Golodomor o Holodomor, come lo chiamano alcuni storici appassionati della storia qui in Occidente e anche in Ucraina. Che cos'è questo evento, come dobbiamo trattarlo, come dobbiamo vederlo nello spaccato della storia sovietica e come è inciso questo evento sulla politica e sugli avvenimenti che noi stiamo vivendo oggi in Europa, in Ucraina, sulla guerra, sulle relazioni tra Ucraina e la Russia. Allora, quando noi parliamo di Golodomor o Golodomor, che tradotto dall'italiano sarebbe Induzione alla morte tramite la fame. Quindi è un evento che dipinto spesso nella storia recente ucraina come un genocidio del popolo ucraino perpetuato da russi o alcuni esperti un po' meno estremisti ammettono che invece dei russi sono stati i sovietici a causare questa caristia e lo sterminio del popolo ucraino, come lo chiamano, paragonando i sovietici, i russi, i comunisti, perché fanno di tutta l'erba un fascio, li paragonano anche addirittura a Hitler. Che cos'è stato questo evento, come è andata realmente la storia e come si rappresentano? Adesso ne parliamo. Allora, Golodomor è un evento che è stato estirpato dalla storia più ampia. E' presentato in Ucraina di recente, anche in Occidente, come una storia mentre in realtà si tratta di una memoria storica di una parte del popolo ucraino. E questo è molto importante da sapere quando noi trattiamo gli argomenti come la storia, perché, come giustamente cantava De Gregorio, la storia siamo noi e spesso questa cosa, insomma, è molto labile, questo fenomeno, perché sì, la storia siamo noi, ma fin quando noi possiamo affermare che è corretto ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo sentito a livello di valutazione dell'analisi storica, perché è giusto avere le memorie, è giusto che un popolo ha delle memorie storiche, ma è molto importante capire quanto sono integrati a livello generale nella storia più ampia, perché sicuramente l'opinione di una parte del popolo non fa la storia del popolo intero, così come anche gli avvenimenti presentati si sono estirpati dal contesto generale della storia, sono molto pericolosi. Proprio questo è successo con il Golo d'Amor, con questo evento. In realtà si tratta di una caristia. In Unione Sovietica, in quell'epoca, ci sono stati due grandi caristie. Prima caristia è stata fatta sempre dai sovietici, sempre i bolshevichi hanno creato queste caristie. Quindi la prima era dal 1921 al 1923, e la seconda dal 1931 al 1932. Sono le caristie che sono state dovute dalla gestione che i bolshevichi applicavano all'agricoltura e all'economia delle giovani repubbliche sovietiche. Quindi si trattava proprio di feroci eventi, terribili eventi, perché sono morti milioni di persone, dovuti all'applicazione delle nuove forme di gestione di agricoltura e di economia. Quindi sbaglia chi dice che sono stati gli eventi causati in base alle differenze razziali o così via. I comunisti non erano razzisti, per cui chi oggi cerca di raccontare questi eventi come un genocidio, ad esempio, del popolo russo contro il popolo ucraino, o in malafede o totalmente ignorante in materia. Adesso vi spiego perché. Questi eventi sono avvenuti in Unione Sovietica, all'epoca, giovane Unione Sovietica, composta dalle repubbliche sovietiche che appena erano attaccate a questa nuova entità geopolitica, e quindi si andava dietro all'ideologia comunista, all'ideologia sovietica. Questa ideologia si basava, tra altri fattori, su un fattore molto importante che si chiama internazionalismo. Internazionalismo per la sua natura non comprendeva l'esistenza delle differenze razziali. Cioè i comunisti della provenienza di una persona, della provenienza razziale, se ne sbattevano altamente, perdonatemi il termine. Per loro era importante la provenienza di classe, perché loro divedevano gli esseri umani sulle classi, non sulle razze. Questo è un momento importante. Quando noi valutiamo la storia dell'Unione Sovietica, dobbiamo partire proprio da questo presupposto. Poi, se vogliamo proprio approfondire e capire come l'ideologia sovietica trattava le questioni razziali, basta leggere uno dei lavori di Josef Stalin, che si chiama La questione nazionale, dove lui parla di differenze tra le nazioni, tra le razze, come queste vengono viste dall'ideologia comunista, e così via, in poche parole spiegando che i comunisti se ne infischiano delle razze. Per loro la cosa più importante è che la classe operaia, che il proletariato, diventi la classe progressiva e la classe dominante della società. Punto e basta. Quindi, quelli storici che oggi dicono che i russi hanno causato quello d'amore all'Ucraina, questa è stata una cosa organizzata dai russi, dalla Mosca, per sterminare il popolo ucraino, non hanno assolutamente ragione. Sono in torto e, come ho detto prima, o sono in mala fede, e quindi sono propagandisti che usano degli strumenti della storia per una becera propaganda, oppure sono totalmente ignoranti in materia e non devono assolutamente avvicinarsi ai discorsi della storia, perché se loro non riescono a capire che in Unione Sovietica non esisteva la questione nazionale, non esisteva la questione razziale, ma si agiva sulla base della differenza di classe, delle classi, allora non devono proprio occuparsi della storia questi personaggi. Comunque, Golodomor è stato purtroppo l'esito dell'applicazione di una politica che tra l'altro è stata formulata da Lenin, perché oggi dicono che è tutta colpa di Stalin, in realtà in Unione Sovietica è molto difficile dare delle colpe, perché uno continuava le idee dell'altro, cioè Stalin aveva creato l'idea delle abitazioni sociali, poi nel 54 è morto e Khrushchev questa idea ha realizzato con architetti, ha creato famose case di Khrushchev, le hanno chiamate, ma in realtà queste case erano progettate già all'epoca da Stalin, quindi così anche Stalin continuò la politica che ha realizzato Lenin e alcuni suoi collaboratori negli anni venti, la politica di collettivizzazione. In che cosa si basava la collettivizzazione? Quando i contadini ricchi, che i comunisti li chiamavano kulaki, dalla parola russa kulak vuol dire il pugno, e li chiamavano così perché tenevano in pugno la campagna, tenevano in pugno l'agricoltura, perché sfruttavano i contadini meno ricchi, perché erano piccoli capitalisti della campagna e ovviamente comunisti li vedevano come nemici di classe, allora questi contadini diventavano vittime di esproprio delle proprietà, una cosa atrocissima, tantissimi di loro sono morti, tantissimi di loro sono stati fucilati, mandati nei campi di prigionia, tipo quelli che poi diventarono kulak, all'epoca non si chiamavano ancora kulak, e poi ovviamente molti di loro erano costretti semplicemente di dare i propri beni, i propri averi, anche raccolto, anche grano, alle fattorie collettive, quindi gli veniva proprio proposta questo scambio, voi ci date insomma quello che avete accumulato, quella ricchezza che avete accumulato, e noi vi lasciamo in pace, vi lasciamo vivere, quelli che l'hanno fatto in effetti sono rimasti a vivere, non sono stati fucilati, però poi dopo hanno avuto comunque brutta fine, perché nel sistema sovietico sopravvivevano coloro che andavano dietro totalmente all'ideologia sovietica, che in questo era il senso della teoria che stipulò ancora Lenin insieme con Trotsky, che si chiamava la dittatura di proletariato, la dittatura di proletariato era quello, che il proletariato prendeva il potere nel paese con tutti i mezzi, e alla fine non dovevano rimanere le altre classi sociali, solo proletariato, e anche dirigenti, anche il partito, erano tutti composti da elementi provenienti da proletariato, quindi proletariato eliminava altri classi. Questo è avvenuto in Ucraina con Golodomor, nel 31-32, sono stati tolti ai contadini i raccolti, ovviamente è cambiata totalmente la politica di gestione, di grano, di agricoltura, di economia, e la campagna sprofondata in questo momento di transizione, cioè c'è stato un anno o due, la campagna sprofondata nella crisi. Mancava disperatamente il cibo, è arrivata la fame, e molte persone sono morti per via della fame. Questo in grande linea è Golodomor. Cosa succede oggi con Golodomor? Golodomor è diventato un elemento propagandistico di nazionalisti ucraini per spiegare in maniera molto ignorante e molto limitata ai propri addetti che i russi sempre hanno voluto morte al popolo ucraino, che le hanno sempre oppressi e così via. E quindi oggi si sentono delle cose che non stanno nel cielo e in terra, ad esempio che il popolo russo ha usato Golodomor per sterminare il popolo ucraino, oppure che la mosca, poi i nazionalisti ucraini sempre ci hanno con la mosca, ma questa è una cosa che deriva anticamente da un sentimento molto profondo radicato in una parte del popolo ucraino legato al fatto che prima erano loro la capitale e loro erano patria di vera Russia, Kiev era la base della Russia, infatti Vladimir ha fondato la Russia partendo da Kiev, ha battizzato la Russia in fede ortodossa partendo da Kiev e Kiev era il centro dell'impero russo. E poi improvvisamente, poi nella storia dopo 300 anni, la capitale si è sposta a Mosca e Kiev diventa succursale. Ovviamente questo sentimento di diventare improvvisamente provinciali messi vicino agli imperi come Recipo Spolita, che era impero polacco molto potente all'epoca che faceva le conquiste, che andava e arrivava anche addirittura a minacciare di conquistare la Russia, tutto questo ha suscitato in una parte del popolo che abitava nei territori che oggi si chiamano Ucraina, ma all'epoca non c'era questo, non esisteva neanche questo termine, insomma, Ucraina è diventato, è un termine inventato dopo. Queste terre venivano chiamate comunque in un modo diverso, facevano parte dell'impero russo e nessuno neanche si domandava sul fatto che è una terra indipendente, non era indipendente, faceva parte dell'impero russo, era l'impero russo e Kiev era la base una volta dell'impero. Poi diventato succursale sono nati questi attriti tra Mosca e Kiev, molti quelli che abitavano su questi territori di frontiera sono andati a servire ai polacchi, alcuni strezzavano l'impero ottomano e questi attriti si aumentavano, insomma, la storia è piena di questi esempi. Però il Golodomor oggi viene sfruttato come un'arma di propaganda pseudostorica perché viene preso in considerazione quello che in realtà non è la storia obiettiva ma semplicemente la memoria storica di una parte del popolo ucraino. Perché quando noi parliamo del fatto che i contadini sono morti, hanno patito la fame, che c'è stato questo evento Golodomor, noi dobbiamo innanzitutto affermare una cosa importantissima che dal 31-32 la fame hanno patito non solo in Ucraina, in quei territori dei quali si parla spesso nella propaganda di Golodomor, la fame hanno patito i russi, i russi dalla zona di Pavolge, anche lì sono morti milioni di contadini ed erano russi e oggi loro non piangono e non si lamentano e non fanno la guerra contro la Mosca dicendo che guardate i nostri antenati sono morti. Sì, sanno tutti che cosa è stato, a molti questa cosa dispiace, moltissimi sono in Russia contrari per questo al sistema sovietico, al comunismo, ma non vedono questa cosa come uno sterminio in base razziale perché non lo era. Era un sistema sovietico che applicava le proprie regole, nuove regole. Ad esempio sono morti milioni di persone in Kazakistan, perché Kazakistan del Nord, che in realtà è la Siberia del Sud, perché all'epoca era la Siberia del Sud, poi dopo è stata regalata al Kazakistan, perché voi sapete che l'Unione Sovietica all'interno dei confini delle repubbliche spesso venivano cambiati questi confini. Soprattutto lo ha fatto un politico che ha fatto un po' di questi cambiamenti scellerati, nessuno ha mai capito il senso. Ad esempio, un politico si chiamava Nikita Khrushchev, colui che è arrivato dopo Stalin, lui voleva passare nella storia come un grande riformatore, però non era in grado di riformare niente in maniera veramente sana, gli mancava un po' di istruzione, era una persona molto grezza, era un contadino che è arrivato nel partito e ha ammazzato tantissimi dei suoi concittadini, perché lui era ucraino, e in effetti è passato per la storia come ucraino che ha sterminato più ucraini di tutti. Quando lui mandava le liste di fucilazione, le liste di persone da fucilare dall'Ucraina, mentre lui era primo segretario del partito in Ucraina, Joseph Stalin con la matita rossa, io ho letto questi documenti, perché quando mi occupavo di preparazione di scrittura di un libro, ho visitato diversi archivi a Mosca, quindi ci sono questi documenti bellissimi, dove Khrushchev chiede di fucilare mille e qualcosa di persone, e Joseph Stalin sul bordo del documento con matita rossa scrive di chiedere di verificare al compagno Khrushchev se sta bene. Cioè, Joseph Stalin, colui che per la storia è passato, soprattutto in Occidente, come quello crudele e cattivo, lui si sorprendeva di fronte alla crudeltà di Khrushchev che mandava le liste di gente da fucilare, della sua gente, perché Khrushchev era ucraino e ammazzava gli ucraini. E Joseph Stalin, giorgiano, non voleva ammazzare così tanti ucraini, scriveva queste annotazioni abbastanza espliciti sul bordo del documento, invitando Khrushchev di contenersi nella sua follia sanguinaria. Poi Khrushchev comunque ha preso il potere e dopo la morte di Stalin fece questi stranissimi tagli all'interno del paese, ad esempio fu lui che ha regalato all'Ucraina la Crimea, che da sempre è stata russa. Nessuno ne lo avrebbe mai fatto, l'ha fatto un politico scelerato, un politico che non sapeva niente della politica alla fine e uno che è arrivato lì al potere solo per un giro di nomenclatura. Comunque Khrushchev in quel modo ha anche regalato la Siberia del Sud al Kazakistan, per questo oggi, una volta le terre siberiane, oggi sono le terre di Kazakistan. Immaginate la tragedia di persone che vive lì perché sono russi, sono sempre considerati russi, ma da centinaia di anni e oggi si trovano in un paese con il quale non si riconoscono, dove c'è una lingua ufficiale, una lingua kazakh e così via. Questo casino ha creato Khrushchev, per farvi capire, un ucraino che governava l'Unione Sovietica, un comunista proveniente dall'Ucraina che è arrivato a governare l'Unione Sovietica. Comunque al nord di Kazakistan, l'ex sud Siberia, sono morti tantissimi milioni, sono quasi 11 milioni di persone, se non erro, per via di carristia, perché la politica di collettivizzazione era applicata in maniera più feroce, proprio perché là venivano spostati molti di questi contadini ricchi, kulaki, e proprio nei loro confronti la politica sovietica applicava in maniera particolarmente violenta questo nuovo sistema di collettivizzazione. Comunque, cari amici, Golodomor è un evento storico che oggi, soprattutto in Occidente, viene presentato in maniera distorta perché la memoria popolare non è la storia esatta, fa parte della storia, sicuramente bisogna ascoltare tutte le campane, però così come sarebbe sbagliato raccontare, non so, la storia, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale solo dal punto di vista, ad esempio, dei fascisti, o solo dal punto di vista dei partigiani, o solo dal punto di vista degli alleati, così è errato oggi rappresentare un evento come Golodomor solo dal punto di vista di contadini che hanno patito la fame, anche perché nella loro situazione sicuramente erano in deficit, nella loro situazione non avevano assolutamente alcuna visione geopolitica di quello che hanno subito, non riuscivano a fare le analisi, per loro la situazione era molto semplice, sono arrivati i potenti da Mosca, dalla Russia, perché per loro il fatto che esisteva l'Unione Sovietica, che quelli erano comunisti, loro secondo me non si accorgevano molti neanche di questi particolari, per loro è chiaro che sono arrivati cattivi da Mosca e le hanno portato via i pane e allora ecco siamo morti, e allora ecco sono milioni di morti, e rappresentare oggi questa pagina di storia in questo modo così degradante è veramente limitante e offensivo verso l'intelligenza umana. Io ci tengo a precisare, ci tengo di far passare questo messaggio, proprio perché oggi, nel momento in cui c'è la guerra e le propagande dilagano, io sento spesso parlare di Golodomor, spesso sento parlare del fatto che i russi massacravano gli ucraini già a quell'epoca lì, io volevo solo sottolineare alle persone che operano con questi tra virgolette argomenti, che poi argomenti non sono, come ho spiegato prima, io volevo solo ricordare che nell'epoca di Golodomor, la Russia, io lo ricordo perché per arrivare a parlare con linguaggio sullo stesso livello con le persone che operano in maniera ignorante, se io scendo nel loro livello di ignoranza e cercherò di spiegare a loro modo quell'evento lì, comunque io smonto la loro tesi, perché se noi vogliamo partire dall'analisi basata sulla razza di quell'evento, tutto è molto semplice, la Russia dell'epoca, che era in realtà non Russia ma l'Unione Sovietica, era governata da un giorgiano, non da un russo, ad applicare le leggi è stato partito comunista, cioè il comitato centrale, nel comitato centrale di russi erano 20%, 20% negli anni 30, la gran parte delle persone che negli anni 30 erano in un comitato centrale, ovvero i capi del partito comunista, guardate, erano di tutte le razze, c'erano tedeschi, c'erano polacchi, c'erano tantissimi ebrei, c'erano gli ucraini e c'erano 20% dei russi, c'erano lituani anche e poi c'erano solo 20% dei russi, quindi a livello anche di questa ignoranza storica nel rappresentare un'azione simile come l'azione del popolo russo nei confronti del popolo ucraino, comunque non sta in piedi questa storia, proprio perché negli anni 30 il popolo russo era sottomesso totalmente al sistema sovietico e al sistema internazionalista e venivano governati delle persone che delle razze se ne infischiavano. Per loro era la cosa importante, la cosa più importante era la classe, la provenienza, le classi erano le provenienze delle persone da una classe, le appartenenze delle persone da una certa determinata classe e loro volevano che la classe proletaria comincia a dominare tutto il paese. E con questo io finisco alla nostra puntata di oggi, vi invito a iscrivermi al mio YouTube, al mio canale YouTube, mettere like, mettetevi campanellini, iscrivetevi alle vostre domande, iscrivetevi su Facebook, su Instagram, su tutti i miei canali, io farò, continuo a fare altre video interessanti su varie tematiche che spero vi piaceranno se avete da chiedere, da dire qualcosa, le vostre riflessioni, io sempre grato per quello che volete esprimere, leggo i vostri commenti, quindi scrivetevi nei vostri commenti quello che pensate, vi auguro ogni bene, un forte abbraccio, ciao cari! grazie a tutti i miei canali,